Finalmente, dopo sette mesi, rispetto ai tre preventivati, è stata riaperta al traffico la galleria di Frondarola. L'ANAS, proprietaria dell'infrastruttura e stazione appaltante dei lavori, dopo le numerose proteste non solo dei residenti, ma delle migliaia di automobilisti che utilizzano la Statela 80 a Teramo Montorio anche più volte al giorno per andare al lavoro o per incombenze quotidiane, ha fatto pressione sull'impresa che si era giudicata l'appalto per la chiusura del tunnel, ottenendo una riapertura in anticipo sulla nuova tabella di marcia che rischiava di restituire l'opera alla viabilità addirittura a settembre. Finalmente, finalmente è stata riqualificata, messa in sicurezza, una grande sfida di ANAS perché era un lavoro sempre rinviato negli ultimi anni, io direi nell'ultimo decennio, proprio perché tutti avevano paura dei disagi. I cittadini non devono avere paura dei disagi perché da oggi abbiamo una galleria sicura per i prossimi 30 anni. Pensiamo solo a una cosa, che qui sono stati gettati più di mille metri cubi di calcestruzzo speciale, parliamo più di un milione di litri per renderci conto del volume del lavoro fatto in questi mesi, una messa in sicurezza e una riqualificazione che dà anche un messaggio positivo per le zone interne e dà un messaggio positivo in questi giorni di forte turismo. C'è un boom, un boom inaspettato quest'anno e siamo orgogliosi di questo. Siamo contentissimi di aver collaborato con ANAS che per noi è un'istituzione, soprattutto per i piccoli comuni perché è un attore fondamentale del pubblico per aiutare noi sindaci. Il sindaco di Montore ha voluto anche fare chiarezza su alcuni rumors che parlavano di una nuova chiusura dopo Ferragosto. Guardi, adesso questo è il periodo dei social, se ne sentono un po' di tutti, ognuno scrive la sua. Io invito i cittadini sempre ad attenersi ai canali ufficiali, quelli istituzionali, è assolutamente una fake news. Da oggi si riapre la galleria, ci sono dei lavori di rifinitura e insieme ad ANAS abbiamo condiviso la scelta di fare questi lavori di rifinitura, soprattutto sull'illuminazione, la notte, dalle 22 alle 6 nel mese di settembre. È stato possibile grazie al lavoro di tutta l'ANAS, al lavoro di tutti, si è riaperta un'opera importante e ci ha permesso di riaprire il collegamento importante tra la Valle del Terramano e l'Alta Valle Montana dei Monti della Laga e la provincia dell'Aquila. Ringraziamo tutti i nostri superiori che si sono impegnati, dal responsabile della struttura territoriale Abruzzo e Molise, l'ingegnere Antonio Marasco, l'ingegnere Marco Bosio, il direttore di centro, l'ingegnere Luca Sellecchia e tutto il personale tecnico e le maestranze che si sono impiegate in queste lavorazioni.